Un diverbio scoppiato per futili motivi, poi trasformatosi in rissa con il coinvolgimento di più persone e quanto accadute presso il centro di accoglienza di Palinuro, già protagonista in passato di altre vicende di cronaca. Questa volta alcuni ospiti della struttura sono venuti alle mani pare per futili motivi. Alcune mancanze nella pulizia degli alloggi, il là che ha fatto scoppiare il battibecco, poi degenerato con calci, botte, offese e spintoni tra richiedenti asilo. Di fronte alla baraonda venutasi a creare, probabilmente anche a causa di attriti pregressi, i responsabili della struttura hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Sapri, che sono riusciti a sedare gli animi e hanno poi provveduto ad identificare e a denunciare per rissa tutti i partecipanti allo scontro. Si tratta di sei immigrati, ospiti del centro di accoglienza. Quattro, invece, le persone che hanno riportato delle ferite a seguito della zuffa sono state trasferite presso l'ospedale di Vallo della Lucania per essere medicate. Fortunatamente per loro nulla di grave, ma solo graffie e contusioni giudicati guaribili nel giro di pochi giorni.